Insieme per competere, insieme per Taranto. È il nome che l'associazione Made in Taranto ha dato al progetto di valenza sociale presentato stamattina in provincia alla presenza dei rappresentanti dei 12 studi professionali e aziende che hanno dato vita ad una rete per fornire assistenza e consulenza a tutti coloro che hanno aderito all'associazione per aiutarli a risolvere i problemi non solo di tipo aziendale ma anche personale e familiare, dai giovani ai commercianti e così via. Abbiamo pensato ad una città che chiaramente ha tanti, tantissimi problemi e uno di questi problemi sono i giovani che stanno andando via. Questi giovani che non sempre hanno risorse a sufficienza per potersi garantire un professionista che lo segue, Tukur. In questa maniera, mettendo insieme tanti professionisti di varie estrazioni, chiaramente diamo la possibilità di avere quello che vorrebbe avere chiunque c'è uno staff, un gruppo di professionisti esperti nel proprio settore che lo aiutano. Chiaramente lo faremo gratuitamente in fase di orientamento, poi nel momento in cui il progetto sarà partito chiaramente ci saranno comunque e ci sono comunque delle grosse agevolazioni, specialmente per i giovani. Fra gli obiettivi primari del progetto, quello di evitare i contenziosi attraverso una consulenza preventiva. L'obiettivo è quello di evitare, secondo le logiche attuali, evitare quanto sia possibile i contenziosi. Perché il contenzioso fa perdere tempo all'imprenditore, rallenta l'attività ed è alla fine un danno economico. Quindi l'obiettivo sarebbe quello di offrire una consulenza preventiva, che valga ovviamente a consentire al progetto di fare al meglio e senza conflitti ciò che gli deve fare sul piano giuridico, quindi contrattualistica, rapporti col personale, rapporti con i fornitori nei due sensi naturalmente. Tutto ciò ovviamente preferibilmente in via preventiva, perché lo scopo primario oggi di un'impresa è evitare il giudizio. Fiorella Occhinegro, architetto specialista in design di interni, ha infine sottolineato proprio il risvolto sociale dell'iniziativa Made in Taranto, grazie alla quale si potrà contare su uno staff di professionisti che costituiranno un punto di riferimento nella propria vita lavorativa e non.